Sabato 20 marzo si terrà per la prima volta ad Agropoli un evento dedicato alla condivisione della memoria attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, organizzato dal neonato Presidio Libera Agropoli, intitolato al Tenente dell'Arma dei Carabinieri Marco Pittoni. A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, la celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno si terrà alle ore 10 e 30, in diretta streaming dal Castello Angioino Aragonese. Nel corso dell'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni locali e della società civile. Ormai giunti alla 26esima edizione, quest'anno la scelta dello slogan è ricaduta su una rivisitazione dell'ultimo verso dell'inferno di Dante Alighieri, a ricordare e a rivedere le stelle. Lo slogan rimanda la volontà di tutti di uscire dall'inferno della pandemia, che da un anno a questa parte ci ha privati della felicità della condivisione, poiché il settore culturale è stato fortemente colpito dalla pandemia, Libera ha eletto i luoghi di cultura come sfondo della manifestazione. Il Presidio di Agropoli, fondato da soli ragazzi, nasce con una specifica finalità, sensibilizzare la cittadinanza circa la presenza del fenomeno mafioso sul territorio. In linea con questo obiettivo, si invita la società civile tutta a prendere parte all'evento, sebbene solo virtualmente, affinché si possa condividere la memoria delle vittime innocenti delle mafie. Per partecipare all'evento twitch.tv slash presidio libera Agropoli.